Siamo di nuovo a Malati di Cinema Live, questa volta faremo una bella chiacchierata con Mimmo Caropresti, una vecchia conoscenza mia e di Pierpaolo Mocci, insomma abbiamo tanto da raccontare anche di incontri con Mimmo Caropresti, in particolare io con il legame con la Calabria, inevitabilmente negli ultimi dieci anni ci siamo incontrati molto spesso, non ultimo, il film Aspromonte, la terra di ultimi, che è raduce da tantissimi riconoscimenti della critica del pubblico con un fantastico Marcello Fonte, poi ne parleremo meglio con Mimmo, ciao! Ciao! Io do anche il benvenuto a Pierpaolo Mocci, curatore di lunedì film, dell'insert che uscirà come ogni lunedì domani con il quotidiano del Sud e il nostro Luigi Tenzi che si ospita sulla sua pagina Facebook ammalati di cinema. Dicevamo, Mimmo Caropresti, per quanto riguarda significa Calabria? Sì, 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 significa Calabria. Sì, poi con te Raffaella veramente è Calabria, no? Cioè il festival anche a Cosenza per molti anni. Primavera del cinema. Primavera del cinema. Sì, significa Calabria, sai, nonostante io poi sia partito, è arrivato a Torino quando avevo sei anni, no? E comunque io e la mia famiglia siamo sempre rimasti dei calabresi a Torino, devo dire. Anche se sinceramente siamo stati sempre ben accolti, ben, come dire, anche amati in quella città, devo essere molto sincero, pur, come dire, qualche volta subendo le storture, no? Di questa cosa che eri un calabrese a Torino, eccetera. Però noi non ci siamo mai lamentati, diciamo, come idea, mio padre che lavorava alla Fiat, era contento del suo lavoro, sostanzialmente. E quindi c'è stato per me un momento di formazione importante, no? In quella città. Però non ci sono mai dimenticato dove arrivavo, come ero, dove sono nato. Noi sono nato a Polistena, sai, in mezzo alla strada, proprio in mezzo alla strada, perché allora si lasciava in mezzo alla strada, proprio. Tecnicamente in mezzo alla strada, si lasciava con tutta la gente intorno. Quando poi sono nati i miei fratelli e le mie sorelle me ne sono accorto, no? Di questa cosa qui. E quindi sono ritornato spesso, moltissimo, insomma, c'è un'intera sequela di cugini, zii, cose, eccetera, di parenti in tutta la Calabria. Che poi col tempo, no? Da dove sono nato, a Polista, a Reggio, eccetera. Sono anche emigrati all'interno, no? I calabresi emigrano in continuazione. Si spostano, sono fluidi. Fluidi, si muovono in continuazione. Io mi ritrovo con parenti dappertutto in Calabria, mi ritrovo con tanti amici, devo dire, sinceramente. E soprattutto sono riuscito a lavorare molto bene in Calabria. Una cosa interessante, importante per me, che ho trovato la possibilità di fare delle cose belle, costruendo sempre intorno a me delle persone che hanno continuato il lavoro lì, no? Penso a Cosenza Alfestra, penso a Lele e i nostri amici della scuola, che abbiamo costruito, a Siderno, penso a tutta un mondo che intorno a me è cresciuto, al Festival di Reggio, no? Quest'estate, infatti, ci siamo incosciati anche lì. Lì. Quindi, come dire, per me la Calabria è veramente un po' una patria anche sentimentale, devo dire, al di là di essere cinato, al di là di essere tornato a fare cinema. Adesso voi state lavorando con un giornale, insomma, che si occupa in maniera molto forte, mi sembra, è della Calabria. Sì, sì, si occupa del sud, ma non solo, nel senso che poi diventa un punto di vista per guardare le cose da altre angolazioni, no? E penso che per Mimmo la Calabria sia anche ciò che lo lega in modo sincero alla sua terra e a ciò che conosce. Quindi, intanto ho messo la maglietta rossa in omaggio, parliamo della sua attività documentaristica. Io vi interrompo dicendo che perché Mimmo Calabria è un regista interessante? Perché, se ci fate caso, nella filmografia di un regista, io parlo dei film, poi dopo ci occupiamo della parte anche dei documentari, quando ci sono pochi film la gente si deve interessare di quel regista. se nell'arco di una carriera che per Mimmo adesso è più che trentennale, ci sono, se non dico male, sette film di fiction o sbaglio? Giusto? Sì, sette. Ecco, Gillo Pontecorbo ne fece nove, Kubrick non ne fece molti di più, insomma, certi, il mio preferito Michael Cimino ne fece pochissimi, un grandissimo regista come Claudio Caligari ne fece addirittura tre, così è troppo poco, però insomma significa che un regista fa i film che vuole fare e poi nel frattempo tra un film e l'altro Mimmo ci ha messo l'attività dei documentari e tante altre cose. Quindi per ampliare il discorso sulla Calabria e quindi far sentire meno soli magari chi ci segue da altre città o altre regioni, Mimmo ha sempre ricercato, e quindi questa è la domanda, qualcosa che gli facesse in qualche modo tenere i piedi per terra, quindi una Calabria vista proprio come radici, che lui in qualche modo si è un po' portato, la Calabria è anche Torino, perché poi se facciamo un discorso parallelo tra film e documentari, i documentari legati a Torino e quindi alla Fiat, la Thyssen Group, procedono quasi parallelamente, che è un'altra realtà che lui conosce bene, preferisco il rumore del mare, è un film che è diviso a metà tra Calabria e Torino. Certo, hai ragione tu comunque, il problema non è la Calabria, per me, anche Roma è molto importante nella mia vita, nella mia storia, appunto, se non altro perché ci ho incontrato delle persone meravigliose con cui poi ho fatto dei film, cioè Nanni Moretti per primo, quando ho fatto il mio primo film, ero venuto da Torino a Roma per provare a fare cinema, e Nanni l'avevo visto, Nanni Moretti, l'avevo visto a Torino, al Festival di Torino, poi con lo stile che c'è a lui quando l'ho rincontrato, mi ha detto, oh stai a Roma e non mi hai detto niente, no? No, sapeva benissimo che ero qua, sapeva benissimo che cercavo di fare un film, eccetera, poi quando è riuscito a leggere la sceneggiatura, gli è piaciuto, no? E mi ha chiesto di farlo insieme a lui, no? Produttivamente, poi ho fatto il regista, eccetera. Ma anche Roma, incredibilmente, per me è stata una città di accoglienza, devo dire, che sono molto, non so se sono io che ho ispirato, come dire, le persone a volermi bene, ma come dire, Roma è una città difficile, non per chi fa cinema, perché ci sono quelli che fanno cinema da sempre, ci sono i figli di quelli che fanno cinema da sempre, ci sono le strutture, no? Cinematografiche, mamma mia, poi quelli che vengono da fuori, quelli che hanno successo, cioè riuscirà a farsi largo. in una città come Roma è veramente un'enorme complicazione, non glielo auguro a nessuno, no? nella vita. Però, come dire, ho sempre trovato delle persone che erano curiose nei miei confronti. Pierpaolo, tu sei uno di quelli, uno di quelli che mi ha invitato all'università, no? L'hai ricordato in quel bel post che hai fatto l'altra volta. c'è sempre stata un'enorme curiosità, curiosità, insomma, che io ho sempre pensato dovuta a che cosa? Negli ultimi anni ho capito che cosa, cioè, in fondo io non faccio parte di nessun tipo di gruppo organizzato, precostituito, no? Intorno, che ne so, ai film, alla letteratura, alla politica, sto con tutti, faccio la mia vita, cerco di dire quello che sono, che penso, che ho voglia di raccontare, quello che posso raccontare, eh? Perché ricordatevi una cosa, io me la ricordo spesso quando faccio i film, no? Giustamente tu hai detto, nei fatti sette, e qualche volta dico, sono troppi, sono troppo pochi, non lo so, quando si fa un film si mette in gioco molto della propria vita, no? È molto importante avere la forza, no? Di quel momento lì, no? Di scegliere di fare un film. Devo dirti una cosa, Pierpaolo, che io nella mia vita ho incontrato per qualche giorno, per il tuo regista preferito, Michael Cimino, e ti assicuro che è un'esperienza di vita, è un'esperienza di vita incredibile, cioè come un uomo riesce a fare quello che molte volte non si capisce, no? Di uno che sta facendo un racconto cinematografico, cioè i grandi riescono a fare una cosa, avere un punto di vista, no? Che non è quello di tutti, nelle cose, no? Cioè, è per questo che qualche volta è difficile fare un film, no? Perché bisogna avere non solo un'idea, ma quell'idea lì in qualche maniera deve essere importante e interessante per tutti, no? Un piccolo, una storia intima, una storia grande, cioè ci deve essere qualcosa, un germe da dentro, no? Di, come dire, di intuizione, no? Di numerose parte. Sì, bravo. Esattamente, intuizione. Io dico sempre che io faccio un cinema realista, come hai detto tu, no? Con i piedi per terra, sto nella vita. No, è un realismo poetico, Mimmo. Eh sì, è un realismo, io lo dico sempre che è una ricerca di verità, c'è dentro questa cosa qua, no? C'è una ricerca di verità che non è la realtà, no? C'è qualcosa di più profondo che si muove intorno a noi, ma non solo intorno a me, eh? Cioè, intorno alle persone, eh? Che molte volte non riescono mai ad afferrare nella vita, no? Io molte volte dico che mi interessano le persone perché le persone sono sempre alla ricerca, ma tutti, eh? C'è un povero disgraziato che sta sotto casa mia, no? Fino al Presidente della Repubblica. E sono tutti misteriosamente alla ricerca di una verità nella vita, no? E non sempre riesce questa cosa qua. Quindi il cinema ha questa possibilità attraverso il racconto di una vita, no? Di indagare in questa verità della vita. Io in quello mi ci butto abbastanza quando faccio un film, no? E quindi ti dicevo che un regista come Michael Cimino, no? Mi ha insegnato immediatamente, in pochissimi, durante una giuria che facevamo per un cinema che si è a Torino, molto importante così, in pochissimo tempo mi ha detto delle cose assolutamente, eh? Come dire, necessarie da dire, non so come dire. Aveva un punto di vista sulla vita, sul, su quello che sta succedendo nel mondo, quello che era successo a lui nella sua vita che era assolutamente sorprendente, no? E quindi mi ha fatto capire che molte volte nella vita bisogna avere anche la fortuna di incontrare certe persone, per avere qualcosa, no? E a me è capitato, devo dire, una delle cose che mi reputo di essere stato fortunato, fino adesso è stato questo, ho incontrato Nanni Moretti, ho incontrato grandi registi, ho incontrato Charles Depardieu, ho incontrato persone che improvvisamente, come dire, mi hanno detto qualcosa che mi ha illuminato, no? Mi ha detto qualcosa di importante, ecco lì scatta un'altra cosa importante per un regista che è il saper ascoltare, dico io, no? Cioè io, il mio atteggiamento in questi momenti è sempre stato di meraviglia, no? Di avere questa possibilità e senza sa tanto a, mi sono messo ad ascoltare e cercare di imparare, ecco, da tutti loro. Senti, in questo momento probabilmente, siamo in un momento, no? Difficile, siamo tutti destabilizzati, no? E credo che il mondo della cultura e dello spettacolo ha preso un contraccolpo e siamo tutti storditi, no? Da questa cosa. Quindi ancora nessuno elabora, no? Anche i grandi, nessuno ha la capacità di elaborare in questo momento. Però probabilmente tra un po' arriverà questo momento di confronto. Che cosa pensi tu? Perché io credo che da tutto questo, qualcosa, nasce. Penso che, come dire, abbiamo una storia alle spalle, che è quella del neorealismo, no? Adesso lo riprendo. Cioè il neorealismo usciva dalla guerra, no? Noi stiamo uscendo dalla guerra, perché è incredibile. Anche stamattina, no? Sono uscito andare a prendere il caffè, comprare il giornale e per strada c'era della gente che si muoveva, no? Perché c'era una bella giornata oggi a Roma, come se fosse liberata improvvisamente, non aveva di muoversi. In una maniera, come dire, così c'è bisogno di qualcosa, non sanno bene che cosa, però stanno insieme, bevono il caffè, no? Cioè li capisci che la loro vita è cambiata, è trasformata, che hanno bisogno di qualcosa che ormai da tanto tempo non ha più, sostanzialmente, no? E forse ancora non capiscono, però la cosa a me mi diceva stamattina questa situazione, che gli esseri umani non sono fatti solo di lavoro, allora il lavoro l'abbiamo risolto perché facciamo, no? Come adesso facciamo il nostro incontro via web, e allora quello che non possiamo fare, no? Al cinema, con i cinema chiusi, cerchiamo di farlo sul web, eccetera. oppure, come dire, stiamo attenti una settimana, no? Cerchiamo di non infettarci, di tenere le distanze, tutto però, come dire, tutto questo ci sta togliendo qualcosa di così forte nella nostra vita, di cui abbiamo bisogno. Mi dice che gli esseri umani hanno bisogno molto, molto e molto di più di quelle quattro cose che sembra che siano necessarie, no? Gli esseri umani sono ricchi, ricchi di cose che devono scoprire, che devono decidere di fare. Allora io penso che la cosa importante è che noi dobbiamo imparare da fare quello che ha fatto il generalismo. Quando è stato possibile uscire dalla guerra, sono saliti sulle macerie, no? Guardiamo Rossellini, Roma città aperta, ma sono molti di più, ecco. Dico Rossellini per semplicità, perché ho finito che conoscono tutti. Salire sulle macerie è cominciare a lavorare, a raccontare, senza tanti discorsi nella testa. Cioè, questo è un lavoro, no? Quello che facciamo noi è un lavoro, noi dobbiamo lavorare, praticare il nostro lavoro, quindi dobbiamo avere la curiosità di andare su quelle macerie lì, farle vedere, raccontare, vedere cosa c'è successo dentro, no? È quello che ci succederà, perché non lo sappiamo ancora, quello che ci succederà. Cioè, c'è un momento in cui dobbiamo cominciare, come dire, a liberare la nostra creatività. Ecco, quello che è stata bloccata, secondo me, in questi mesi è stata la nostra capacità creativa. Ce l'abbiamo ridotta di molto, ma sai, perché dobbiamo difenderci, non so come dire. Cioè, nella situazione di paura, nella situazione di paura si crea poco, in realtà. Cioè, se vedete i film horror, oppure vedete il film, il poliziesco, il crime, no? Nel momento in cui c'è il momento di paura, è il momento dove ha meno possibilità uno di costruire, no? Di creare la possibilità di uscire da una situazione, eccetera, no? Perché è di difesa, il momento di paura è tutto di difesa. Allora, noi dobbiamo uscire da questa difesa, se prima o poi, perché liberare la nostra creatività, ricominciare a raccontare. E in questo momento, io credo, lo sto facendo, devo dire, una delle cose che sto facendo insieme agli altri autori è quello di battersi perché questo settore qui, no? Continui a rimanere in piedi, perché rischia. Cioè, rischia. Abbiamo i nostri amici attori, molti non lavorano tanto. Abbiamo le sale chiuse, abbiamo i teatri chiusi, abbiamo meno possibilità di incontrarci, organizzarci, lavorare insieme. E quindi, come dire, è un settore che sta pagando duramente questa crisi. Devo dire che con grande disappunto ogni tanto vedo a quanta poca gente gli importa la cultura, no? Molte volte, devo dire che i francesi, gli autori francesi che hanno equiparato come la cultura al pane, no? Mi è piaciuto molto, hanno ottenuto dei risultati in queste cose qui. Cioè, bisogna difendere il proprio pane, bisogna difendere la propria cultura, no? E questa cosa qui stiamo cominciando a farla insieme con molti autori. Verdone l'altra settimana, no? Ha fatto questo bell'incontro dove diceva che lui i suoi film li vuole vedere al cinema, ma Bruni ha, Francesco Bruni ha altri, no? Che hanno visto i loro film svanire in un attimo. Ci sono le piattaforme, è giusto che lavoriamo anche sulle piattaforme. È giusto che, come dire, ci sarà nel futuro tutti i due modi, no? Di poter essere visti, di essere bravi a metterli insieme, tutte quelle cose lì. Però dobbiamo difendere qualcosa che noi siamo, noi siamo cinema, no? Io dico che quelli che fanno cinema devono difendere il cinema, quelli che fanno cinema devono difendere le sale, no? Devono difendere i luoghi di... Devono difendere chi scrive, devono difendere gli attori, non so come dirti. Cioè, il cinema è qualcosa... Devono difendere chi scrive di cinema, chi è appassionato di cinema, no? Tutto questo, secondo me, è una delle cose più importanti, no? Che ci sono da fare in questo momento. Però in questo momento c'è anche da pensare che, come dire, che ora che, insomma, facciamo i film di nuovo e torniamo un po' più liberi, sperando sempre che non ci troviamo una variante nuova ogni tre mesi, insomma. Perché è grave. Io spero che facciano il vaccino a tutti in fretta, ecco, perché così torniamo liberi. Il mio produttore, Fulvio Lucisano, che ha 93 anni, ha fatto il primo, no? L'ho chiamato l'altro giorno. Gli ho detto, che Fulvio, ma allora come è andato? Stai male? Oh, benissimo! Super eccitato! Perché non vede l'ora di tornare a fare film. A 93 anni. Io prendo esempio da lui. Ci vuole... Quella passione lì e quell'energia lì. A me di avere, che ne so, di pensare solo al fatto che poi ti danno delle possibilità di sopravvivenza, non me ne importa. Io voglio vivere, voglio vivere, quindi voglio ritornare a farcino. A pieno, certo. Io, se posso, intanto volevo sottolineare, anche per, diciamo, chi ci segue e è, diciamo, appassionato di cinema, ma che poi magari nella vita fa altri lavori, che Mimmo ha detto due cose fondamentali. Uno, dell'importanza dell'incontro, che è un incontro, se possibile, fisico, meglio, ma un incontro fatto anche di frequentazione per stimolare qualcosa in noi che ci fa crescere. E io personalmente nell'ultimo anno e anche negli ultimi mesi in cui con i miei collaboratori ho costruito questo inserto che facciamo, diciamo, mi sono cresciuto ancora di più perché mi sono confrontato con 20 giornalisti appassionati di cinema che mi hanno aiutato anche appunto a cambiare e allargare i miei orizzonti. E questo penso che chiunque lo può traslare in ogni settore. E poi ovviamente ha parlato, insomma, di quanto sarà importante ripartire con entusiasmo e di sfruttare questo momento cercando di protestare il meno possibile e di resistere o di usare, insomma, resilienza, questa parola di moda. Io vorrei entrare nel merito e cominciare a, insomma, elencare alcuni titoli perché poi con Mimmo è bello poi parlare di tutto però mi piace anche ricordare alcuni titoli e magari in un'altra puntata parleremo del suo cinema. Io vorrei far conoscere a chi ci sta ascoltando i documentari di Mimmo perché Mimmo ha realizzato una ventina di documentari uno più interessante dell'altro. Io stesso, che forse un giorno potrei scrivere se lui vuole una biografia, non li ho visti tutti perché alcuni non so dove reperirli. Però se Mimmo adesso ci aiuta io vi posso citare un bellissimo documentario su Socrates, il calciatore, la maglietta rossa che indossò Panatta nella finale, insomma, tennistica e poi lui è un grande conoscitore di Pasolini ha fatto un paio di cose su Pasolini quindi Mimmo ci puoi dare un po' di indicazioni di dove trovare i tuoi documentari? Sai che è un'operazione complicata Pierpaolo però voglio dirti questo intanto che mi ricordo quella giornata che abbiamo fatto tempo fa su Pasolini ti ricordi al bar, al Corso Trieste e volevo dire quella cosa lì è stato un momento, una domenica pomeriggio dove ci siamo ritrovati ma sai quanto mi ha dato un momento bello di rapporto con le persone con l'attenzione che avevano di conoscere Pasolini eccetera quella giornata lì per esempio in un momento complicato appunto alle 6 dovevamo andarsene a casa quelle mascherine e tutto tutti avevamo paura di disinfettarci noi, il pubblico eccetera pur fatto tutto con grande attenzione devo dire dal locale però voglio dire perché? perché quella giornata è stata importante per me perché in quel momento io ho detto le persone hanno bisogno di tutto questo non è un lavoro solo di così superficiale un lavoro in cui c'è un bisogno primario che non parte dalla testa o dalle idee parte dal corpo un bisogno fisico il cinema, il racconto, le vite bellissimo io faccio i documentari per questo perché i documentari permettono una cosa incredibile di incontrare delle persone e di incontrarle sulla loro vita per dirti Kislowski che è stato un grande regista polacco che aveva fatto il decalogo aveva fatto i tre colori film 2, uno dei capolavori del cinema veniva sempre al festival a Torino e una volta ha portato i documentari al festival al cinema giovane si chiamava allora i suoi documentari e ha cominciato a raccontare i suoi documentari lui ha detto una cosa molto interessante quel giorno che ho sentito che mi ha aperto la testa nei documentari c'è una cosa che mentre fai raccontare uno la sua vita eccetera io mi accorgo sempre che c'è qualcosa che il suo racconto non può essere fatto in diretta non può essere messo lì a disposizione di tutti è un momento misterioso della sua vita che non ti racconterà mai ma io lo sto leggendo questo momento misterioso e da lì decido di fare i film di finzione cioè i documentari sono veramente la base di ogni possibile racconto senti tante storie che poi infatti valida sempre la domanda se ci dai delle indicazioni dove trovare ma te lo dico dopo perché penso che questi documentari in questo momento per fortuna si stiano riscoprendo perché in un momento che magari il cinema perde qualche colpo dal punto di vista di contenuto col documentario alle brutte apprendi una storia interessante poi se il documentario è ben lavorato ha un suo linguaggio eccetera diventa un capolavoro però diciamo che col documentario alle brutte insomma apprendi una storia che non conosci cioè se vediti il documentario di Mimmo su Thyssen Group quello che era successo la fabbrica lì se magari uno gli è sfuggito quel momento lì apprendi comunque una storia certo assolutamente su cui forse bisogna fare un film prima o poi guarda dico io sempre perché è stato un momento assolutamente poi il documentario sai che in questo momento per la prima volta e ti dirò perché allora ti dico dove puoi trovare tra un po' i miei documentari per la prima volta sulle piattaforme diciamo internazionali di vendita e di visione dei film per la prima volta sono i documentari a essere richiesti più della fiction e per la prima volta i docu sono più richiesti il drama è più richiesto della commedia cioè quest'anno qui è cambiato un gioco di rapporto di visione con le piattaforme per esempio e quindi molta gente mi come dire sto cercando di riorganizzarli tutti per farli passare sulle piattaforme che ne so su Socrates che è un film che funziona sempre ci sta in un sacco di rassegne devo dirti adesso tra un po' ci sarà in un festival di nuovo e su Rai Play credo che si trovi ancora perché era fatto era prodotto dalla Rai quindi se uno va e se lo va a vedere maglietta nostra c'è una storia difficile perché c'è problemi come capita sempre con i film dei produttori eccetera in questo momento con luce sto cercando di farlo il mio gatto eccolo probabilmente riusciremo a farlo riuscire a farlo riuscire perché quello è un documentario molto importante secondo me forse forse è più importante perché incredibilmente con quella storia lì non solo racconto lo sport racconto un grande personaggio come Adriano Panatta ma veramente un pezzo dell'Italia un pezzo dell'Italia che non dobbiamo dimenticare capito cioè Adriano quando mi ha detto la prima volta Adriano Panatta quando mi ha detto sai per decidere se andavamo se andavamo in Cile no mio padre ha telefonato a Berlinguer per sapere cosa ne pensava cioè capisci era un momento veramente era un momento è il fatto c'è stato un modo nazionale cioè era un problema che dovevano tutti e però cosa ci diceva che tutti si occupavano della vita di questo paese cioè Pinochet era da da come dire da c'era una coscienza collettiva sì sì è quella cosa lì guarda che è molto importante io quando quando vedo come viene visto per dirti l'ho portato alle università americane quando potevo viaggiare cosa è successo in tutto questo che lì le persone rivedono qualcosa che gli appartiene in tutto il mondo cioè era un momento in cui noi come direvamo internazionali per qualche Adriano Panate quelle persone lì ci facevano diventare famosi in tutto il mondo come italiani e ritrovavano anche un'Italia come dire che magari così oggi ci sfugge ma con i grandi attori nel documentario c'è Paolo Villaggio che ha una sua una sua follia come racconta eccetera erano tutte persone che erano al centro della vita di questo paese ed erano la cultura del paese o improvvisamente tutto questo è svanito ragazzi non dimentichiamocelo e la politica la si deve dimenticare questa cosa qui no? perché la politica ha un rapporto ottimale con la cultura cresceva insieme alla cultura poi invece un po' alla volta tutto questo si è perso si è abbandonato si è vanificato peccato sì peccato quindi Pier Paolo io credo che ci voglia una cosa che tu fai un elenco di tutti io te li faccio te li faccio come dire li troviamo tutti facciamo facciamo un libro su questo e così poi li rimettiamo tutti insieme adesso li stai restaurando mettete insieme ma quello su Pier Paolo Pasolini è un titolo che secondo me è importantissimo la bellezza salverà il mondo sì adesso di una grande attualità assolutamente però il problema come sempre è capire cos'è la bellezza cos'è la bellezza sai perché Truffo quando ha fatto la Nouvelle Vague che è un'altra delle correnti che a me mi interessano eccetera allora ho cominciato a fare cinema perché era stufi di far vedere delle belle cartoline dentro il cinema no c'era questo cinema molto illustrativo hanno fatto dei francesi e qualche volta lo fanno ancora nonostante noi abbiamo il mito della Francia qualche volta fanno anche loro del brutto cinema non solo noi non è quella cartolina illustrata ecco la bellezza loro l'hanno capito bene cioè loro hanno cominciato per dirti anche lì a fare quello che aveva fatto il nostro neorealismo imparando dal nostro neorealismo dai nostri grandi maestri di andare per strada no è lì che hanno trovato la bellezza se ne sono andati in mezzo alla strada a trovare la bellezza nella casa delle persone nella vita delle persone no ecco questa come dire è fondamentale per capire che cos'è la bellezza perché la bellezza è un problema di ricerca con se stessi no e che non ha solo un problema estetico no nel senso forse dirò una banalità ma voglio come dire essere chiaro su questa su queste cose qui perché molte volte vedo usare quella cosa lì in maniera no sbagliata perché insomma non è il mio compito giudicare nessuno direbbe Papa Francesco quindi voglio dire però come dire artefatta troppo convenzionale eccetera la bellezza è una ricerca di vita che ognuno di noi fa individualmente che deve fare e che deve come dire deve in qualche modo affermare ecco per me la bellezza è dove esiste l'affermazione delle persone della loro vita e di quello che li circonda no quindi voglio dire è bello come dire pensare che appunto ci sono dei luoghi del mondo mi è successo con Aspromonte mi è successo veramente mentre ero in giro per il mondo sono stato in Sudafrica sono stato l'apertura in Australia che è stato bellissimo un bellissimo un bellissimo passaggio stavo per andare in America e poi è arrivato il Covid e si è fermato tutto stavo per andare in America in Canada e si è fermato tutto magari riprenderò ecco per esempio con Marcello Fonte appunto siamo andati a Cap Town in una di queste baraccopoli che erano state ristrutturate messe insieme dalle persone e che il governo gli aveva permesso che ne so di avere l'attacco della luce dell'acqua delle cose eccetera e beh in qualche momento in cui c'era polvere c'erano i bambini per strada c'era grande come dire a prima vista sembrava così che tutto fosse un po' se lo vedi da lontano dice tutto povero tutto modesto no cioè tu entravi in quel cavolo di posto era un posto bello bello dove starci con quelle persone poi magari c'erano mille problemi no però il loro modo di stare lì dentro insieme era bello e a un certo punto Marcello che sta abituato no lui è cresciuto dentro questa fiumara al Reggio Calabria no col materiale fatto di risulta no di questa fiumara praticamente di un ex mondezzaio diceva guarda che diceva ma qua è bello rispetto a certi posti di Reggio Calabria eccetera ma questo è bellissimo questo posto e veramente lo viveva con un entusiasmo incredibile perché sai cosa c'era lì c'era la bellezza delle persone c'erano quei bambini che avevano un rapporto tra loro chi arrivava la loro vita che era veramente commovente ecco è quella cosa che dice Pierpaolo era poetico ecco lì questo momento di poesia che poi è il viaggiare che ci è stato diciamo impedito in questo anno che ci fa incontrare persone ci fa vedere luoghi io mi ricordo un viaggio fantastico ma insomma proprio per rimanere in tema cinematografico quando uscì i Cento Passi io all'epoca collaboravo per avvenimenti ti ricordi la lista allora avevo era diretta da Diego Novelli ex sindaco di Torino no? allora io ero giovane e avevo tanta libertà e chiesi di poter andare a Cinisi a incontrare la mamma di Peppino Impastato e quindi quando entri in una realtà del genere non puoi che notare appunto quello che hai appena detto cioè la bellezza la bellezza di qualcosa che è sospesa in un mondo che dalla grande città non puoi mai non ti puoi neanche immaginare insomma perché ad esempio la casa di Peppino Impastato che poi è diventata una specie di museo e all'epoca c'era ancora la mamma insomma entri dentro con una facilità incredibile che entri dentro la storia cosa che magari non ti capita di vivere così facilmente quindi sì l'incontro il viaggio la bellezza delle piccole cose ci hai raccontato tanto io lo sapevo con Mimmo dobbiamo fare un'altra puntata dai dai con Mimmo perché dobbiamo parlare di noi allora con Mimmo è così allora se c'è un film in uscita proprio per in qualche modo omaggiarlo noi parliamo di quel film se no se dobbiamo parlare di qualcosa con Mimmo possiamo parlare di qualsiasi cosa qualunque legato in qualche modo al cinema magari appunto però insomma come al solito ci hai arricchito sempre insomma della tua presenza e Aspromonte è un film che sembra paradossalmente che sembra così locale così calabrese così legato a una specificità di un territorio però in realtà è universale perché racconta la scuola la strada l'amicizia ci racconta questa roba qua anche tu lo sai di una collettività di un popolo ecco adesso vado al festival in India al più grande festival vado in concorso dai speriamo speriamo bene con Aspromonte no ma sai perché perché in quei paesi lì c'è più Aspromonte di quanto noi siamo è appunto in Sud America c'è sempre un paesino lontano dove c'è la gente che deve battersi per la propria dignità per il proprio lavoro infatti hai raccontato un microcosmo ma in realtà è un racconto universale e ti devo dire una cosa che non era prestabilito questo ma poi ha funzionato che Aspromonte con questa situazione qui dice una cosa importante che le persone hanno dei diritti che sono invalicabili perché sono i diritti alla vita la sanità le cose eccetera e devo dire che questa cosa qui ogni volta che Aspromonte viene rivisto da qualcuno eccetera viene sempre in maniera più chiara è come se abbiamo fatto un film su una situazione che noi non sapevamo neanche che stava per esserci e devo dire che questo è molto merito di Fulvio Lucisano che qui veramente ha raccontato un po' anche la tua storia ma posso dire una cosa invece dalla Calabria dimmi non so se te l'ho detta Mimmo però io sentendo un po' perché i calabresi quando si rivedono al cinema tante volte ma è normale si sentono un po' toccati sono autocritici il tuo film invece ha toccato le corde dei calabresi cioè si sono si sono tutti rivisti hanno rivisto i loro nonni hanno rivisto la loro storia si sono inteneriti di fronte a questo racconto e questa è una cosa bella perché voglio dire io sono vent'anni che lavoro in Calabria e ho seguito il cinema in Calabria è uno dei pochissimi film che ha avuto questa percezione collettiva vero è vero lo volevo dire perché a distanza di mesi ho sempre questo feedback da parte di chi vive in Calabria e vede il tuo film grazie sai una cosa importante è che questa cosa è successa anche al nord cioè a Milano per dirti quelli che andavano a vedere il film poi mi scrivevano oppure altre cose ma anche le ho incontrate alcune volte e tu pensi che eravamo in una cavolo di sala e non riuscivamo ad avere più spazio la gente questa è la struttura di questo mondo va bene ma io non voglio lamentarmi quindi io non lo farò venivamo andati a casa facevano questi vecchietti facevano la fila per poter vedere questo film ed erano commossi da questa cosa qua cioè dal fatto che venivano raccontati loro no? sì cioè si rivedono i loro giovani eccetera e così in una maniera in fondo come dire affettuosa senza dare scontrate no? cioè l'affetto che c'è anche nello scontro no? perché nessuno fa una vita di divertimento qua non l'ha mai fatta nessuno di noi neanche no? voglio dire ma nella vita dura nel confronto nello scontro come dire si sentono amati devo dire da questo film e per questo dico che è molto importante Fulvio Lucisano perché Fulvio Lucisano ha un amore per la sua gente capito? che mi ha come dire trasmesso in maniera forte capito? cioè questo bisogno come dire di dire che i suoi antenati no? il suo padre poi i suoi zii che hanno fatto la guerra i suoi nonni erano persone meravigliose no? è una cosa che mi ha strasmesso lui cioè io forse l'avrei fatto c'era un film che volevo fare chiaro gli ho portato io il libro chiaro volevo fare tutto questo però questo tocco affettivo così forte infatti me l'ha dato Fulvio infatti lui mi ha chiesto di scrivere la frase dedicata alle gente di Calabria cioè lui crede alla gente di Calabria questo è molto bello perché ecco i calabresi come sai litigano su tutto cioè noi abbiamo però su questo li hai messi d'accordo li hai messi d'accordo mia fortuna ogni tanto ogni tanto capita meno male meno male allora senti Pier domani usciamo con lunedì film sì come oggi io ho mandato la copertina se Gigi la vuole mostrare e poi arriva e poi ringraziamo Mimmo del tempo che ci ha dedicato io sono qua sì dove è la copertina eccola eccola ora arriva stiamo caricando eccola eccola la copertina è dedicata a una meravigliosa attrice questa foto che mi è stata regalata da Gianmarco Chieregato che è un grandissimo fotografo e poi dentro contiene tante cose che insomma vi invito a insomma comprare domani con il quotidiano del sud che è un giornale che si trova anche a Roma a Bologna e nelle grandi città perché c'è un po' di sud in tutta Italia e poi noi Mimmo l'ha visto è un inserto diciamo nazionale nel senso che non siamo campanilisti poi è ovvio se c'è qualcosa di profondamente suddista ne parliamo ma se ci piace insomma non siamo e qui c'è una cosa che poi magari ne parleremo nella terza puntata con Mimmo c'è un tra cinema e calcio ho intervistato Giorgio Corrac che secondo me è un grandissimo narratore di storie di calcio e quindi insomma domani anche gli appassionati di calcio troveranno cose penso interessanti quindi grazie che fai mostrare questa copertina allora io ricordo che sul giornale off.it invece potete seguire il tempo reale essendo un sito cosa avviene nel mondo dello spettacolo in generale perché sono ore calde a parte che tra una settimana circa inizia il Festival di Sanremo eh sì lo seguiremo su giornale off lo seguiamo esatto e poi per sapere che abbiamo fatto questo 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 malati di cinema in realtà è un incrocio tra giornale off e lunedì film noi abbiamo fatto una combinazione tra me e Pier oramai eh sì questa bella sinergia in un momento in cui ci siamo un po' diciamo guardati intorno e abbiamo capito chi voleva raccontare continuare a raccontare e continuare a stare un po' eh sul pezzo e e quindi noi eh diciamo fondamentalmente il giornale sia magari le cose che fa Raffaella o il giornale eh inevitabilmente ha una grossa fetta legata alle piattaforme però poi andando dentro ti vengono fuori ti vengono in mente delle cose che eh che magari non avresti eh messo in considerazione l'ultima ieri parlavo con un importante produttore eh e mi ha detto che molti registi gli hanno rivelato che grazie alla piattaforma hanno avuto una notorietà per il loro film e adesso ne possono fare un altro che ovviamente ambiscono poi ad andare in sala cioè quindi attraverso diciamo l'analisi continua e lo studio continuo di quello che sta succedendo noi possiamo anche eh capire meglio certe cose perché se no uno resta sala tutta l'unità noi siamo tutti pro sala ovviamente no? Tutti pro sala tutti pro sala però ci sono film che funzionano sulla piattaforma e danno la possibilità poi di ecco evolversi andare in sala cioè voglio dire il cinema è un linguaggio un giorno parleremo di una piattaforma straordinaria che è RaiPlay che ha 26 milioni di account ma un giovane regista italiano con un piccolo film ma quando l'avrebbe avuto tutta quella visibilità quindi diciamo poi ci staranno vari poi discorsi da affrontare e Mimmo quando vuoi partecipare no ma questa cosa delle piattaforme è importante perché è una rivoluzione che era già in atto sostanzialmente le piattaforme fanno parte del cinema da un po' di tempo cioè non è che oggi è arrivato al covid no? è sempre è stato così da un po' di anni e sarà così in futuro in cui il rapporto sarà tra cinema cinema piattaforma ma forse addirittura anche altre forme di come dire cioè io non mi scandalizzo davanti a niente perché non la faccio io la realtà non so come dirti la fanno le persone con la loro scelta l'evoluzione tecnologica tutte queste cose qui a me mi rimane il compito di raccontare no? di trovare il modo di raccontare agli altri magari di sfruttare commercialmente quello che sto facendo no? ma come dire però qualunque mezzo dicevano le pantelle nere ma c'è una bella maglia da Oakland dalle pantelle nere guardate adesso la faccio vedere che avevo comprato appunto in uno dei miei viaggi che stavo facendo con il film l'anno scorso sì che è appena uscito come dire con ogni mezzo necessario cioè il problema è essere protagonisti noi dentro le cose voi col vostro lavoro io col mio no? poi non è quello il problema va bene quello che deve funzionare hai ragione tu avere un giovane regista che si può vedere su Rai Play molta gente può vedere il suo film io ho prodotto un film a Torino che si chiamava Mirafiori che si chiama Mirafiori Luna Park l'altra sera era su Rai 5 per dire quindi voglio dire quel film lì è uscito da un po' di anni è stato in sala poco poi è andato in televisione poi sta su Rai 5 i film restano se dico è una sua vita che continua insomma chiudo dicendo che chiudo dicendo che uno dei film più amati da Gigi Denzi Febbre da Cavallo perché Febbre da Cavallo è diventato famoso? perché nell'epoca delle tv regionali venne replicato anche selvaggiamente per una questione di diritti saltati che praticamente lo davano ogni tre mesi ogni quattro mesi in televisione continuamente e per la gente è diventata una cosa familiare capito? grazie a Dio va bene allora io ringrazio Mimo Calopresti per essere stato con me grazie a voi vi invitiamo prossimamente perché abbiamo tantissime cose da raccontare grazie per Paolo Mocci domani lunedì film grazie a Luigi Tenzi che ci ha offitato a Malati di Cinema pagina Facebook prossima settimana torniamo ogni domenica a Malati di Cinema Live ciao 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 grazie a tutti ciao 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 ciao